Musica Romina Pianantonio, sono un'operatrice d'orientamento del Centro per l'impiego d'Urbino e gestisco lo sportello Creazione di Impiaresa. Da questa giornata mi porto a casa tanti stimoli, è una bella prospettiva per il nostro lavoro, quindi anche per motivare le persone, quindi siamo venuti a motivarci per motivare e sicuramente sarà un successo. Musica